Tiago Motta alla Juventus. No, non è un'ufficialità, è uno spunto di riflessione. Se vogliamo è un'utopia che voglio concedermi, perché l'allenatore della Juventus oggi è Massimiliano Allegri e ha un contratto anche per il prossimo anno, stagioni 24-25. Però credo che sia sbagliato dare per scontata la permanenza di Allegri in panchina anche per l'anno prossimo e invece credo che sia giusta dare per assodata la percezione che la Juventus possa ragionare su qualche nome alternativo. E se qualche settimana fa, proprio qui sul canale, vi ho portato un altro video dal titolo Tiago Motta può essere l'allenatore giusto per la Juventus, in cui andavo a spiegarvi anche un pochettino quelle che erano le mie sensazioni sulla possibilità di arrivo effettivo di Tiago Motta, oggi sono qui a fare qualcosina di più. Vado proprio a immaginarmi quella che potrebbe essere la Juve con Tiago Motta. È un gioco, è soltanto un giochino. Poi magari Tiago Motta non sarà allenatore della Juve l'anno prossimo, questo video ce lo butteremo via, però avremo passato dei momenti piacevoli a fantasticare quella che potrebbe essere la Juve del futuro. Due premesse, anzi facciamo tre. La prima è che questo canale vive anche grazie al vostro supporto, le vostre iscrizioni, i vostri like, i vostri commenti, dato che fra un po' festeggeremo i 10 anni di questo canale YouTube, il desiderio è quello di arrivare a una fantomatica cifra di 250.000 iscrizioni, quindi pensateci un po' voi. Le altre due invece riguardano due ragazzi che conosco, con cui ho il piacere di collaborare anche sulla BoboTV Channel, e cioè stiamo parlando del critico calcistico e di Cormac di The Football Meta. Per comprendere al meglio questo contenuto occorre guardare anche i loro, oppure banalmente occorre aver visto un gran numero di partite del Bologna e Tiago Motta di quest'anno. Ancora meglio se avete visto un gran numero di partite del Bologna e Tiago Motta quest'anno e avete visto i loro video. Ve li lascio comunque qui sotto in descrizione, fateci un salto. Io, da quando ho questa percezione che Tiago Motta possa essere il nome che davvero arriverà alla Juventus quest'estate, ho iniziato a recuperarmi una gran parte di partite del Bologna. E devo dire la verità, ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. Partiamo da un presupposto. Oggi Tiago Motta è un nome estremamente mediatico. C'è un'influenza assurda, forse anche esagerata, devo dirvelo, è un nome inflazionato, che stiamo inflazionando anche in questo momento, ma che va a rispondere a quello che è stato effettivamente il grande lavoro sul campo di Tiago Motta in questa stagione col Bologna. Perché sta facendo qualcosa di, non lo so, dite voi, straordinario, meraviglioso, inaspettato, super. E ve lo dice uno che quest'estate, all'interno della clip in cui andava a fare la sua prediction per la stagione in corso della Serie A, diceva, per me, il Bologna può essere la grande sorpresa di questa stagione e andare a lottarsi anche un posto per l'Europa. Per l'Europa, generico. Io mi immaginavo il Bologna in Europa League, non mi immaginavo il Bologna eventualmente in Champions League. Poi non c'è ancora arrivato e potrebbe arrivarci. Però rimane il fatto che fino a marzo il Bologna è rimasto nelle posizioni più nobili della classifica di Serie A. Tiago Motta, che quando inizia ad allenare viene da tutti perculato per la definizione 2-7-2. Ovviamente non è un modulo a lettura orizzontale come il 4-3-3, quindi difesa a 4, centrocampo a 3 e attacco a 3, ma è un modulo a lettura verticale, quindi due esterni, sette giocatori in mezzo e altri due giocatori sempre sugli esterni. In realtà il 2-7-2 di Tiago Motta è banalmente un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Focalizziamoci per comodità sul 4-2-3-1, perché è un po' il modulo di riferimento, secondo me, per comprendere al meglio il Bologna di Tiago Motta. E voglio partire da quello che è il giocatore di riferimento e che sta facendo meraviglia anche oggi e che tra l'altro la Juventus sta seguendo. Stiamo parlando di Ferguson. Infatti Tiago Motta utilizza tre centrocampisti, anche se possiamo dire due e mezzo, perché abbiamo un trequartista come Ferguson, che è praticamente un centrocampista che può far variare la lettura, appunto 4-2-3-1 o 4-3-3 se vogliamo rimanere sugli standard canonici di moduli. Come avrete visto anche nei video del critico Eddie Cormac, però la definizione di modulo non è più appropriata per definire Tiago Motta. Bisogna ragionare molto di più sullo spazio. Passiamo ai terzini, perché anche qui dobbiamo un attimino dimenticare quella che è la nostra percezione, la nostra conoscenza classica del terzino alla Zambrotta, alla Fabio Grosso, per rimanere mondiale 2006, e adattarci un po' invece a quelli che sono i compiti che vengono richiesti ai terzini da parte di Tiago Motta. Poca sovrapposizione, magari un terzino più bloccato e un terzino più di spinta. Ora, provate a fare questo gioco. Immaginatevi la rosa attuale della Juventus più tutti i giocatori di proprietà della Juventus. Andate ad inserire nella definizione terzino un po' più bloccato, un giocatore della Juve, e terzino un po' più di spinta, un giocatore della Juve. Può essere banalmente anche un giocatore che la Juve è in prestito in giro per l'Italia o per il mondo, che sta facendo particolarmente bene e l'anno prossimo potrebbe tornare alla Juve. Perché l'obiettivo di questo video è costruire una coppia di quello che è il Bologna e Tiago Motta con i giocatori della Juventus facendo uno e un solo acquisto. E allora io vi dico, il terzino più bloccato potrebbe essere banalmente Danilo. A destra è quello un po' più di spinta, ma nemmeno troppo, perché poi ragioneremo più sul palleggio, sul possesso palla, a sinistra con Cambiaso. Il Bologna cerca di attirare principalmente il pressing degli avversari vicino alla zona palla, che rimane un possesso nella parte difensiva del Bologna, e lo fa magari andando a muovere all'interno dello spazio uno dei due difensori centrali. Questa cosa a Bologna quest'anno la fa Calafiori. E ancora una volta mi viene in mente che quel giocatore potrebbe essere Danilo, se posizionato in zona centrale al fianco di Bremer, ma c'è un altro giocatore che secondo me lo potrebbe fare molto bene alla Juventus, ma in questo momento non gioca alla Juventus. E infatti per me il ruolo, anzi i compiti e le funzioni di Calafiori al Bologna alla Juventus potrebbero essere banalmente interpretate da Wiesen, che in questo momento è in prestito la Roma, ma che dovrebbe rientrare alla casa base l'anno prossimo. E ovviamente neanche a dirlo, l'ultimo tassello della difesa l'abbiamo già nominato e quindi è Bremer. E aggiungiamoci pure anche Scesni, che dovrebbe però iniziare a giocare molto di più con i piedi rispetto a quanto non faccia già, limitando i lanci lunghi o i lanci laterali, come spesso gli viene richiesto da Allegri per andare a scavalcare il centrocampo avversario, e iniziare a giocare molto con i giocatori che vanno a comporre la linea 4 della Juventus. Però cambiaso, Wiesen, Bremer e Danilo, sono giocatori molto tecnici e con qualità di palleggio sicuramente elevate. Passiamo ai centrocampisti. Uno un po' più bloccato, se vogliamo, quel giocatore che va a dare equilibrio, che nel Bologna banalmente può essere individuato in Freuler, che è un giocatore che già con l'Atalanta aveva fatto, aveva scritto bellissime pagine di sport anche inaspettate, e che la Juventus potrebbe banalmente essere Locatelli per andare a sfruttare il lavoro che Allegri ha fatto sul giocatore, piantandolo lì davanti alla difesa, lui che comunque giocava anche come mezzala. Ecco, Locatelli potrebbe ritornare a fare ancora una volta il mediano davanti alla difesa come negli ultimi tre anni, ma con dei compiti completamente differenti. va a prendere il buono di questi tre anni con Allegri, che l'ha messo in una posizione forse a lui anche poco congeniale, ma va ad evolvere quella posizione. E poi al suo fianco un centrocampista che si sgancia un po' di più, perché come avrete visto nei video che vi ho linkato qui sotto in descrizione, uno dei centrocampisti di Tiago Motta poi tende ad allargarsi sull'esterno. E allora ho pensato a due centrocampisti lato Juve. Il primo che può allargarsi sulla sinistra è Rabiot, il secondo che può allargarsi sulla destra è McKennie. Ovviamente in base a questa scelta cambia il giocatore che va messo sulla tre quarti. Quindi per il momento lascio stare McKennie e prendo Rabiot, che è un titolare, che è un giocatore con uno status anche maggiore, che ha due davanti alla difesa, ci ha giocato anche già con la Francia, che secondo me lì può fare cose veramente molto molto buone. Piccolo particolare, Rabiot va in scadenza a giugno del 2024 e quindi nel caso bisognerà rinnovare il contratto, oppure potrebbe banalmente essere un altro calciatore. Per ora utilizziamo lui, perché? Perché per caratteristica all'interno dei giocatori proprietà della Juventus, Rabiot questa roba secondo me la può fare e anche molto bene. Passiamo poi alle ali della Juventus. Una caratteristica nel bolognese di Tiago Motta, gli esterni stanno sempre molto molto larghi a prendere l'ampiezza. E allora vi dico, partiamo da quelli che ci sono oggi, il rosa la Juventus. E mettiamo Ildis a fare l'ala sinistra, anche se è un giocatore secondo me che rende tanto bene anche per vie centrali, però dobbiamo dargli l'ampiezza, dobbiamo dargli la possibilità di andare a giocarsi l'uno contro uno, che è una cosa che lui fa ottimamente. Quindi Ildis a sinistra e a destra Federico Chiesa, che torna nel ruolo in cui ha vinto l'Europeo, torna nel ruolo in cui anche l'altra sera a Napoli in quattro minuti è riuscito a fare un gol, torna nel ruolo che sembra essere più congeniale, da Federico Chiesa. Per me può giocare indistintamente a destra e a sinistra, però sicuramente a destra ha quella possibilità di incrociare come in occasione del gol del Maradona. Manca un solo slot, manca l'attaccante, è scontato pensare a Dusan Vlaovic, quindi ci mettiamo lui, ma c'è un grande ma. L'attaccante nel bologna di Tiago Motta, cioè Zirzee, viene molto incontro, lavora molto il pallone, gioca quasi la trequartista. Vlaovic non è come Zirzee, ha delle caratteristiche completamente differenti. Però Vlaovic ha una cosa in cui è veramente bravo, che era bravo a farla già ai tempi di Firenze e che ha mantenuto anche la Juventus. Quando si trova a spalla alla porta, Vlaovic, piuttosto che appoggiare il pallone al centrocampista, di prima è bravo a girarla, anche alla cieca a volte, sull'esterno che parte. Ecco, questa sarebbe una cosa importantissima, perché Chiesa e Ildiz, o chi per loro sugli esterni, che vanno a prendersi quello spazio lì, possono essere serviti da Vlaovic, che quella roba lì ce l'ha naturale. Per la serie vengo incontro, svuoto lo spazio, gli esterni lo vanno a prendere, Vlaovic li serve. E non solo gli esterni, perché poi andranno ad accompagnare l'azione, spostati sulle linee laterali, anche il centrocampista che si è allargato, quindi Rabiot, e anche il trequartista che al Bologna è a Ferguson, e vedremo chi potrà essere in questa Juve. Mi sono però venuti due dubbi, il primo l'ho già condiviso insieme a voi, ed è quello relativo alle pressioni dell'ambiente. A Bologna Tiago Motta sta facendo ottime cose, ma a Bologna non ci sono le pressioni della Juve. A Bologna se arrivi in Champions è qualcosa di straordinario, alla Juve se arrivi in Champions è la base dell'ordinario. Tiago Motta non ha mai allenato una grande squadra, Tiago Motta non ha mai allenato in Champions, Tiago Motta non ha mai preparato una settimana per gestire campionato, Champions League, coppe nazionali, campionato, Champions League. Quindi sicuramente da questo punto di vista avrebbe delle pressioni non indifferenti. Poi veniamo da tre anni purtroppo in cui non si è vinto niente, sperando che questo possa essere l'anno in cui si inverte la tendenza con la Coppa Italia, però capite da voi che una Coppa Italia in tre anni è comunque una percezione troppo bassa. E allora Tiago Motta se la deve giocare sul fronte della valorizzazione e della crescita individuale e di squadra. E sono convinto che magari cambiando qualcosa i risultati possono essere ancora migliori rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi anni. Poi opinione personale, verità assoluta assolutamente no, perché la verità in tasca io non ce l'ho. Il secondo dubbio me l'ha fatto venire Davo l'altro giorno. Mannaggia te Matte. A tutti in the box. Fai fatica a gestire il pallone? Caspita, ma almeno difendi alto, caspiterina. Difendi alto, che così almeno hai più probabilità di essere pericoloso perché hai meno campo da fare, hai meno passaggi da fare. Davanti la qualità ce l'hai. Infatti anche ieri le occasioni migliori te le crei così contro il Verona, la pareggi perché vai alto e la recuperi i limiti dell'area. Quali le caratteristiche per farlo? Caspita, sì. Eh, ma se giochi contro G-Man e gli lasci 40 metri... Ma Bremer se la gioca. Ma Bremer se la gioca. Uno però. Sì, sì, va bene, va bene. Basta uno. Sì, sì, uno contro uno è sufficiente. No, no, ma ce li hai. Finché c'era Bonucci al centro della difesa ti posso anche dare ragione, ma con Bremer, anzi, secondo me Bremer si esalta in quel tipo di gioco lì. E quindi andiamo in controtendenza rispetto a quella che è l'idea di Tagomotta del palleggio basso e poi la verticalizzazione e creare spazio perché non si va a pressare alto, si va a costruire basso. Due concetti proprio opposti. E allora io la mia risposta ce l'avevo ma ho voluto chiederla anche a Matte che mi ha messo il dubbio e devo dire la verità. Alla fine quello che ha detto lui era la stessa roba che avevo in mente io. E quindi vi lascio una piccola clip e questa è l'opinione di Matteo. Eccoci qua, innanzitutto un saluto a te e a tutta la tua community. Sono qua negli studi Tutti in the Box e so che proprio a questo tavolo ti ho fatto accendere una lampadina e ti ho fatto un po' andare in tilt, no? Con questa questione del pressing alto e dato che il grande nome associato alla Juve è quello di Tiago Motta beh allora giustamente il quesito sorce spontaneo perché Tiago Motta non è un allenatore che fa il pressing alto mentre io continuo a sostenere che questa Juventus diventa molto più pericolosa e molto più efficace quando fa il pressing alto. Allora Tiago Motta dovrebbe adattarsi alle caratteristiche dei giocatori della Juve sicuramente sì perché ogni allenatore deve adattarsi a quella che è la rosa a quelle che sono le risorse che ha da disposizione ma con un grande ma perché il problema di questo Juventus è che non è organizzata per una costruzione dal basso e per la gestione del pallone l'abbiamo visto anche a Napoli la fatica che hanno fatto i giocatori anche solo veramente a fare 3-4 passaggi di fila. Allora se arrivasse Tiago Motta magari con qualche scelta di formazione andando a preferire qualche giocatore più tecnico rispetto a qualche giocatore più fisico-atletico per esempio Miretti rispetto a McCennie allora lui secondo me potrebbe dare potrebbe impartire questo tratto proprio di gestione del pallone sfruttando la verticalità anche dei nostri giocatori davanti Chiesa e Vlaovic su tutti e questo allora ci permetterebbe forse di consentire anche il prossimo anno di difendere a blocco basso per quale motivo? perché se tu sei in grado di fare tanti passaggi prima di arrivare a creare l'occasione da gol allora in quel caso ti puoi permettere di essere anche un pelo meno aggressivo nel recupero del pallone al contrario la Juve di Allegri che fatica a costruire una manovra offensiva di tanti passaggi e quindi poter conquistare il pallone in una zona avanzata di campo permetterebbe a questo Juventus di dover realizzare ed eseguire molti meno passaggi prima di arrivare al tiro e voglio sapere se siete d'accordo con lui e quindi di conseguenza anche con me perché questa è la grande differenza la Juventus andrebbe a costruirsi le azioni piuttosto che sfruttare gli errori dell'avversario certo c'è da metterci mano occorre metterci mano non sarà facile ed è qui che sarà divertente nel caso capire se Tiago Motta è davvero una natura così bravo e allora andiamo a riprendere quella che era la formazione che abbiamo costruito insieme fino adesso e andiamo a metterla sul campetto prima però vi dico quello che è l'acquisto che farei per andare a fare il Ferguson del Bologna e allora io vi dico un calciatore del quale sono innamorato tecnicamente e stiamo parlando di Copmeiners che è il mancino dell'Atalanta che secondo me in quella zona sulla tre quarti può giocare in maniera meravigliosa e immaginarmi una formazione con quelli già della Juventus più Copmeiners beh è qualcosa che mi fa venire un po' la pelle d'occa soprattutto immaginandomela esattamente fare le stesse cose che fa il Bologna di Tiago Motta quindi questa è la formazione questo è il 4-2-3-1 di Tiago Motta che può essere visto anche come un 4-1 4-1 a seconda della posizione di Copmeiners e voglio sapere da voi se questa formazione con un solo acquisto e con i compiti e i ruoli che Tiago Motta interpreta già oggi al Bologna può essere fattibile e può essere una Juve vincente vi dico anche che su Twitter avevo postato una bosda di formazione volutamente sbilanciata per non andare a fare acquisti e quindi avevo inserito al posto di Copmeiner Ildis e al posto di un esterno sulle quindi chiesa sulle Ildis e Blaovic come zona offensiva ora è decisamente troppo lo so benissimo anch'io però era per evitare di andare sul mercato e mettere giù una formazione che poteva essere anche bella da vedere non soltanto per caratteristiche ma proprio per giocatori messi in campo poi ho preferito aggiungere un acquisto Copmeiners che secondo me va a dare ancora più equilibrio a tutto il reparto e per me potrebbe essere qualcosa di meraviglioso un 11 titolare del genere con Copmeiners che è un giocatore che secondo me alla Juventus farebbe eccome la differenza ora però tocca a voi voglio sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti e vi dico che non sarà l'unico video che arriverà sull'argomento perché poi il critico calcistico una volta visto questo contenuto prenderà carta e penna e andrà a correggere tutti gli errori che avrà visto e faremo una discussione insieme su quello che dovrebbe essere la Juventus di Tiago Motta eventualmente sempre per chiacchiera sempre per gioco ciao ragazzi grazie per l'attenzione